lo scenario stagflazione in cui hai poca o nulla crescita economica e allo stesso tempo hai inflazione ok quindi stagflazione è proprio l'unione di due parole stagnazione e inflazione la stagnazione quando non cresce l'economia l'inflazione quando c'è perdita di potere d'acquisto del nostro denaro insieme fanno stagflazione che è la cosa peggiore che vorrebbe chi deve gestire l'economia ok perché se vuoi contenere l'inflazione devi aumentare i tassi di interesse devi fare costare di più il denaro devi raffreddare la domanda in altre parole allo stesso tempo però se raffreddi la domanda non aspettarti che l'economia cresca se il denaro costa di più ci sono meno imprenditori che fanno progetti che investono meno imprese che reinvestono i propri utili e l'economia difficilmente crescerà quindi la stagflazione è uno scenario pericoloso e tutti ci auguriamo di non entrarci però i segnali sembrano portarci verso quella direzione